Settimana scorsa ho fatto un video dove, visto che comunque stavano andando a fare i massimi, avevo detto che il bitcoin sarebbe arrivato a 100.000k. Settimana scorsa dicevo questo e io penso che farà anche di più di 100.000, potrebbe arrivare anche a 150.000 il bitcoin, forse anche a 200.000, ma sicuramente andrà sopra i 100.000. Dopo che ho sostenuto un po' di tempo fa quella discesa forte che ebbe del quasi 40%, certo che il bitcoin ha delle escursioni molto forti, una volta passati i 60.000 è scesa del quasi il 50%, fatta questa risalita ero convinto che da manuale avessero fatto una trappola del toro. Ma se i bitcoin, ed ho detto settimana scorsa dove io sostenevo che arrivavano a 100.000, se i bitcoin fanno i massimi e spaccano i massimi con forza, con volumi, soprattutto con tanti volumi e con forza, allora vuol dire che stiamo in una situazione tipo il 2017 e siamo in piena bolla, siamo in piena bitcoin mania e quindi quando un mercato è in bolla fa sempre delle iperboli, anche più di quello che uno penserebbe. Quindi potremmo a vedere il bitcoin addirittura anche a 150.000, magari anche nel corso da qui a febbraio. E' il momento di investire perché c'è questa bolla? Beh la bolla c'è su tutto, la bolla c'è su bitcoin, sulle borse che non avevo il minimo dubbio che quella di settembre era semplicemente una piccola correzione del 3-4% e ripartiva ancora il mercato per fare la fiammatona finale. Noi ci troviamo in una situazione di ipercomprato e di bolle e di prezzi gonfi su tantissime cose. Immobili, asset immobiliari, materie prime. Non siamo ai massimi, per esempio sul gas arrivano addirittura, passò anche i 10. Su molti siamo arrivati ai massimi, penso al rame, che è quasi attorno ai 5. L'oro sta molto alto, tutte le materie prime sono molto molto alte, ai massimi di quasi sempre o addirittura le hanno passati. Il caffè sta su più di 200 dollari, dopo aver fatto una vita 80, 90, 120. Il frumento che è il cotone, il frumento che sta più di 700 quando mediamente siamo sui 400. Quindi siamo con le materie prime al doppio. Poi sulle materie prime magari che incidono sul discorso dei prezzi ne parleremo in un altro video. Siamo in una fase in cui siamo alti su tutto. Le materie prime ovviamente incidono sul costo della vita e quindi abbiamo rincari su tutto. Cibo, bollette, benzina, petrolio. Ne parleremo magari in un'altra situazione. La famosa crisi energetica, che poi in realtà di crisi non ce n'è perché, di gas ce n'è quanto ne volete, così come delle altre materie prime. È semplicemente speculazione. Ma quindi per tornare ai bitcoin siamo in una fase di euforia. Sui mercati non siamo neanche ancora in una fase di euforia. Arriviamo da un ciclo molto lungo di rialzi. Se andiamo a vedere i grafici non sostenibili, una correzione forte deve arrivare. Ma graficamente la vedi che deve arrivare. Ma siccome siamo in una fase euforica, possiamo aspettarci anche delle iperbole. E questo vale anche per il bitcoin. Quindi non escludo che il bitcoin possa andare a 80, 90, 100, 150, forse addirittura a 200. Però c'è anche da dire questo. Che sicuramente a un certo punto più sali in verticale e più la correzione sarà profonda. E ritornare da dove è iniziata tutta la bolla. Quindi se uno investe, decide di investire anche in bitcoin, deve comunque mettere in conto che se non prende il momento giusto potrebbe comunque rimanere poi incastrato per una vita. O perlomeno essere incastrato per anni. Adesso siamo in una fase di forte speculazione, di forti rialzi. E giustamente tanti ci credono, perché quando c'è l'euforia sicuramente si sale forte. E quindi i bitcoin hanno risolto il problema di tante persone, perché col bitcoin diventi ricco. Cioè aumenta il costo della vita, però sale il bitcoin, quindi il bitcoin è una fonte di guadagno. Anzi addirittura chi ha la fortuna di poter investire, arrivando a 100, 150 mila, puoi anche non più andare a lavorare. Praticamente guadagni solo con il bitcoin. Molti mi dicono l'ambre, ma tu... L'ambre è tranquillo. Io due petelli li uso per viaggiare quando posso e basta. E per sopravvivere, perché io vivo in maniera minima. Al massimo l'utilizzo per fare la baita. Però diciamo che i bitcoin in questo momento, dopo una salita forte, una forte discesa, perché poi arrivarono a più di 60 mila poco tempo fa, e quindi abbiamo avuto gente che ha comprato a 60 mila, sono andati giù quasi a poco più di 30 mila, quindi hanno perso il 50%. Abbiamo gente che comunque comprando i massimi ha comunque lasciato il 50%. Bisogna vedere se alcuni hanno avuto le palle di comprare nella fase di ribasso o magari hanno venduto per paura. Perché ricordatevi sempre una cosa importante, che vi dice l'ambrenedetto. Quando le borse crollano, vi parlano di abbiamo perso, sono stati bruciati i ton miliardi. Nei bitcoin, nella borsa, non viene mai bruciato niente. C'è chi guadagna e c'è chi perde. C'è chi guadagna e c'è chi perde. Bitcoin, se uno è stato bravo a comprare a 5 mila, oggi siamo a più di 60 mila e li ha tenuti. Nonostante lo spavento da 60-30 mila, oggi è molto sopra. E quindi sta guadagnando. Guadagnando, tra virgolette, perché finché non li vende non ha guadagnato. Diciamo che sta in gap. Però ricordatevi sempre che per chi guadagna c'è sempre chi perde. Perché sennò sarebbe praticamente la beneficenza. E quindi arriveremo ad un punto nelle materie prime, nelle borse, nei bitcoin, ma anche negli immobili, che qualcuno lo prende in quel posto. Ipotizziamo che il bitcoin arrivi a 150 mila, ci sarà gente che lo comprerà a 140-145, ma se a 150 mila poi scoppia e torna giù ancora a 50-60, poi per anni magari passano per rivedere certi prezzi. Quindi qualcuno rimane incastrato. Anzi, magari vedendo che scende, vende per paura. Se parte il panic selling, ok? Quindi, in tutte queste cose, non è che c'è sempre gente che guadagna. C'è gente che guadagna e c'è gente che perde. Se uno va a prendersi un immobile, nella fase più bassa del mercato di ribasso, magari case che costavano 50-60-70 mila euro, le va a prendere a 30 mila, lui ha fatto l'affare. La smenata è quella che ha dovuto magari svendere. Quindi non è che sempre uno guadagna, non è che coi bitcoin tu guadagni sempre. Cioè, se arrivi al momento sbagliato, può darsi che ti becchi sui denti un meno 20, un meno 30, un meno 40. E magari psicologicamente non lo riesci più a sopportare, di vedere il tuo capitale dimezzato e dici, vendo per paura. Quindi, non sempre guadagnano tutti e non sempre perdono. C'è chi è stato bravo e c'è chi è stato non è bravo. Semplicemente questo. Ma noi illudiamo la gente che con il bitcoin e tutto e quello salirà sempre. Ci sono momenti di rialzo e devi essere bravo tu, e ci sono dei momenti di ribasso. Comunque i bitcoin li vedo molto, molto in bolla. E molto, molto in palla. Sicuramente saliranno ancora.